E ora vado all'assaggio Ci soffio perché porta via Buone, speciali Ti riempiono la bocca di mare, di terra Questi sapori forti sia del rapino che della cozza Sono proprio perfetti Poi la cottura con l'acqua della cozza Ha reso salata al punto giusto tutto Non c'è stato bisogno di aggiungere sale Molto importante, secondo me, utilizzare del sale naturale Come può essere l'acqua delle cocce, vera Andrea? Ti farci a meno la pressione Già siamo messi male Ci prende anche la pasticca per pressione